In questa puntata di Cucine da Incubo, lo chef Canavacciuolo è al ristorante Mangiarte. Non c'è nessuno? Ha trovato un menù a base di piatti assemblati. Dei cucinare, non assemblare. E ingredienti surgelati. Sta proprio schifo questo piatto. Questo è il suo piatto forte. Un locale dall'identità confusa. Uno staff senza alcuna esperienza. Che mi ricordi? Io sto andando tu, sto andando. Lo chef Canavacciuolo dovrà provare a trasformarlo in un autentico ristorante. Non avete capito il concetto di ristorazione o qual è? Con una forte personalità e gestito da veri professionisti. St'animale. Siamo a San Lorenzo, uno dei quartieri più caratteristici di Roma. Ricco di locali e meta serale preferita dai giovani romani. Qui, pochi anni fa, Mario e Dario hanno aperto il Mangiarte. Per entrambi si tratta della prima esperienza nel campo della ristorazione. Abbiamo improvvisato tutti quanti. Io in Primus e tutto il resto appresso a me. Ho fatto tanti anni barista quando ero piccolo. Poi crescendo ho fatto anche catering. In cucina lavorano Massimo e Chiara. Anche loro senza una formazione specifica. Sono oltre vent'anni che cucino, ho sempre fatto per passione, mai a livello professionale. Prima lavoravo come banchista in una pizzeria a taglia. Mario e Dario hanno cambiato spesso idea sul menu e sull'impostazione del locale. Ognuno di noi che si sveglia ha un'idea nuova e mettiamo in pratica. Ma i risultati sono sempre gli stessi. Con il tempo le idee si sono accumulate una sull'altra. All'inizio facevamo una cucina più a buffet. Per fare più clientela possibile, poi l'abbiamo tramutata in cocktail, bar, caffetteria, dolceria, birreria. Al bar c'è Ugo, il figlio di Mario. Lavoro al bar, faccio i cocktail e anche in sala quando serve. Al Mangiarte i cocktail costano poco. Il lavoro serale e notturno ha così preso il sopravvento. E ora il locale è aperto quasi 24 ore al giorno. All'ora di cena facciamo solo due o tre coperte a sera. I clienti arrivano dalle 11 fino alle 3, alle 4, alle 6 del mattino. Pranzo, cena, notte, non so che servono, non so manco io sinceramente. In questo locale la notte regna veramente il casino. In poco tempo il Mangiarte è diventato popolare come locale dopo cena e notturno, relegando cibo e cucina a servizi e accessori. La notte vengono a mangiare perché magari non sanno quello che mangiano, secondo me. Questo locale credo non si capisca bene che è un posto dove si mangia. In cucina alimenti surgelati e confezionati sono spesso la base di piatti molto semplici. Secondo me la cucina non si può mangiare. Massimo però non sempre riesce a gestire le comande. Se arrivano 10 persone insieme si va in tilt totalmente. Magari devo cucinare tre piatti diversi per tre persone diverse, mi si crea un pochino di fila. L'abitudine a un servizio più da birreria che da ristorante crea grandi difficoltà a pranzo e a cena. La sala non comunica che la cucina, la cucina non comunica che la sala. Il caos regna proprio il sofrano. Il problema principale è la confusione nelle ordinazioni. Capisci la scrittura? Mi scontro con i camerieri specialmente. Io faccio il cameriere, perciò mi devi seguire quello che dico. Tante volte si perdono le comande, tante volte non si capiscono bene gli ordini. Spesso i piatti restano in attesa in cucina. A torno comunque qualcuno lascia sempre il segno. Se tiriamo pure la roba, calcola le diciamo spesso. Con molta calma, con molta calma, con molta calma. Mario dà indicazioni al resto dello staff, ma i più delle volte senza successo. Vorrei da loro un qualcosa di più che non te può notare perché alla fine c'hanno 90 anni. La confusione si riflette anche sui conti del ristorante. Il lavoro notturno infatti copre a malapena le spese e senza incassi più consistenti il locale rischia di chiudere. Se continuiamo in questa maniera, prima o poi dovremmo fare delle scelte. Dove essere sincero, io un grande futuro non lo vedo. Finché io posso coprire, sicuramente se va avanti come se sta andando avanti adesso. Speriamo che posso coprire tutta la vita perché se penso che non posso più coprire non credo che questo locale ci abbia una lunga durata. Non sarà facile per lo chef canavacciuolo dare un'identità precisa a mangiarte e insegnare le nozioni di base a uno staff totalmente inesperto e confusionario. Lo chef canavacciuolo è arrivato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. San Lorenzo, un bel posto per aprire un bel ristorante. C'è pure tanto movimento. Mangiarte 24 ore, ma che è una farmacia? Trattoria, ristorante, aristopub, cocktail, penne alla vodka. Mamma mia, fammi entrare. Noi abitualmente stiamo tutti in cucina, smangiocchiamo qualcosa. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Ma c'è qualcuno? Guardiamo dal monitor però se entra qualcuno. Buonasera. Buonasera, vai chiuso. No, no, è aperto, chef. Stavamo facendo le preparazioni. Buonasera, chef. Chi sei? Sono il titolare, Dario. Sei da solo? No, c'è Mario. Mario? Tu sei Mario? Mario. Che c'era? Stai mangiando? No, no, non stavo a mangiare. Non stai mangiando? No, no, assolutamente no. A sapore. A sapore. Ma siete aperti 24 ore o letto fosse? Anzi, alla notte soprattutto cuciniamo. Perché di giorno non lavorate? A pranzo, a cena facciamo su 4-5 coperte. Si lavora più la notte, quando escono dai discotechi e vengono qua a mangiare, quindi le spese che ci vanno... È l'unica entrata che ci avete. Sì, diciamo adesso alla notte riesci a farci recuperare le spese. E che cucina fate? Cucina è buona. È buona? Cucina è casareccia, non è una cucina... Romana. Dai, fatemi assaggiare qualcosa. Prego, certo. Buonasera, chef. Sei stanco, voglio? Eh, un pochetto sì. Tanta gente, eh? Sì. Non c'è stato quando andavo a ciò, non c'era nessuno. Questa è la tua tenuta da cameriera? Purtroppo questo passa al convento. Poi puoi andare a ballare dopo? Eh, dopo sì. Ma io sto sempre così. Ma stai mangiando? Una gomma. Ti sta bene, non ti parli con i clienti. Patrizio, si ama così come? O lo ami o lo odi. Cucina vegana, su prenotazione. Cosa fate come cucina vegana? Che facciamo? Che ne so, me lo devi dire te. Improvvisiamo. Ormai la cliente ci dice che cosa c'è oggi, non è che cosa sappiamo. Vabbè, il menù rispecchia molto il locale. Eh sì, non si capisce niente. Tutto a posto? Posso aiutare io? Tanto dai che cambia niente, perché tutto il menù è quello. Allora, assaggio questa matriciana. Ok. Posso andare? È solo la matriciana, devo mangiare. Mezza manica alla boscaiola, linguine, cacio e pepe. Ah, quello gli ho ordinato tre piatti di pasta. Gli ha detto, ma che te mangi tutte e tre? Poi, salsiccia al mirto e scamorza al prosciutto. Va bene così. Ok. Proprio oggetti che non si capiscono, messi a casa. Mangiarte. Quasi sono mangiato il latte, e ti è rimasto pure sullo stomaco. Un teschio che ti guarda mentre mangi. Una bellissima cosa. Ah, bella buffata, eh? Beato te. Questa barca rappresenta il ristorante, in bilico. C'è uno spazio pure fuori, ma è abbandonato a se stesso. Peggio che dentro, oh. Buonasera. Buonasera, chef. E tu chi sei? Piacere, Ugo. Qua cos'è? Il pub, diciamo. È l'area del bar. Facciamo i cotte, caffetteria e tutto il resto. E tu fai la parte del bar? Lavoro sul bar e poi quando serve è sconsata da una mano, se c'è parecchio lavoro. Sempre con la stessa divisa, diciamo. Diciamo, ne cambio tutti i giorni. Com'è? Patricio, assaggi. Io sto giocando. Io sto dietro, non la posso mangiare la pasta. Ho usato un po' di pancette di merda. Della matriciana c'è poco. In effetti. E' una pasta al pomodoro. E' una pasta al suo, e mi piaceva. Ma io lo porto io al piatto. Ma lo porto io al piatto. Posso farti compagnia? Dove? Io mi metto spesso a sede con i clienti. I piatti si mangiano prima con gli occhi, senza assaggiarlo, no? Ha usato dei piselli in scatola. Un secondo me lo dai? Ma che ha usato dei piselli in scatola? Sì. Un corpo di te bia. Sì, ha usato dei piselli in scatola. Ha usato dei funghi in scatola. Vabbè, un secondo. Ma che ha usato dei funghi in scatola? No, in congelare. E' stato caruccio qua, ha detto no, è scatola congelati. Poi, cos'è questa roba? Io non capisco cos'è. Se è prosciutto, salsiccia, carne, non lo so che cos'è. Questo che è? Prosciutto. Prosciutto. Sono dadini di prosciutto crudo. Ci vuole un mago per indovinare. Ma sta a buttare, lo cef. Mamma, che faccia che ha fatto? Quando guardavo nel mondo, vedevo le espressioni di Cannavacciolo che non erano positive. Mario, se io ti devo pagare un piatto di pass e spendere 20-30 euro per mangiare due piselli di scatole con due funghi. Massimo, sta a fare del meglio. Pensa quando sta normale. Se io non c'ero io seduto a tavo, ci mettevo pure la panna. Ci faccio una scommessa. Massimo, ma di solito tu a questa pasta ci metti la panna? La voglio sempre più bene. Mamma, ho soggiorato, mi dice una cagò, ma che schifo. Ma che faccio io? L'arrivo davanti, chi è? Aspetta. Ma dove sono capitato? Sulle linguine cacio e pepe ho pensato che forse ce l'avrei fatta come chef. Ce la puoi fare, Massimo, ce la puoi fare. Prego, chef. Questo è un peccato. L'esecuzione ci può pure stare, ma è il cacio che fa schifo. Mi ha detto che questa è buona, però la colpa non è tua, è del pecorino che è scadente. C'è perfettamente il tragetto, ho detto 100 volte. Questo pecorino fa a cagare. Che? Assaggia un po' questa pasta. Comunque mi ha fatto assaggiare tutti e tre tipi di pasta. Cioè, vado a panza, ho messo, non so. Che è il suo piatto? Salsiccia al mirto. Inventata da lui. Da me. La salsiccia al mirto se l'ha inventata Dario, ma non esiste una ricetta, cioè non esiste nulla. Posso sempre? Metti bene la salsina, eh. Ti senti il mirto. Mi ha messaggiato. Un anno e quattro mesi, che lo dico, è una cagata. Fa proprio schifo, cioè non c'ha senso di vivere il suo piatto. Questo è il suo piatto forte, eh? Non lo fa come ti dico io, ovviamente. Dario, penso che l'ha accusata tutta. La cassa parlando di una salsiccia messa su una piastra, è servita, è fa schifo. Amore, questo rato si fa proprio schifo. Questa è della scamorza messa in forno, sciolta, e ci ha appoggiato solo la del prosciutto. E l'errore? Che non è un piatto. Stava pensata prima veramente, a che dici? Ha detto lo chef, cosa hai fatto di tuo? Ovviamente è un piatto assemblato quello. In realtà comunque c'è poco di nostro là, non abbiamo fatto niente. Dopo l'assaggio, per lo chef è il momento di conoscere Chiara e Massimo. Stasera quando mi hanno dato questo menù, io ho fatto fatica a scegliere. Guarda, io vedo una stradisca cucina ai piatti, no? Tutto congelato. Congelato. Sui secondi. Quando ha preso il menù in mano lo chef, io mi viene da ridere. Ma non c'è da ridere. No, mi viene da ridere perché insomma... Qua avete tutti ingredienti in busta, secondo me. L'unico scamorso al prosciutto. E' quello che ha preso lei? Tu cosa hai fatto? Non sei. Hai preso una scamorso sotto vuote di merda, l'hai buttato in forno, hai preso del prosciutto, già fettato in busta e l'hai messo su una cosa calda che è diventato prosciutto cotto. Mezzemanica alla boscaioca, hai preso i piselli in scatola, i funghi ai detti in busta, hai saltato un po' di prosciutto e ci hai mischiato la pasta. Vero. Cacio, capito, non ci puoi fare niente, ma il cacio faceva schifo, perché è un cacio di merda sicuramente, matriciana che era, guanciale, eh? Era guanciale, sotto vuoto. Massimo, devi cucinare, non assemblare, e assemblare pure male. Date un motivo perché io devo tornare qui dentro. No, perché si lamentano che non ci sono clienti, ma se mangio così perché devo venire qua? Dai, mettetemi in linea che sta stesso con voi. Voglio vedere un po' come funziona, dai. La metteremo tutta. Lo staff del mangiarte è in attesa di ricevere i clienti per la cena. Affidiamo le armi, eh? Ma come spesso accade, il locale rimane desolatamente vuoto. Sono le 11 di sera e il quartiere comincia a popolarsi. Anche il mangiarte inizia a riempirsi di gente. Vedi che aspettate dieci e mezza, undici, allora vedi gente che entra e mangia fino ai cinque, sei di mattina. La nostra fruciutta è per casino. È un po' un casino perché la gente che ha la chicchiera del cocktail, il tavolo che vuole mangiare i panini, il tavolo che vuole mangiare la pizza. Un po' un misto di tutto. Questo è pronto, Green Apple. Tu sai che cosa voglio, la tagliata? La dieta. Sempre una cosetta al volo che la mangiano. Mangi il panino, le mangi una cosa, non è una cosa del chef, le cose, la vedo. Ragazzi, buon appetito, lo lascio mangiare. Grazie. Ragazzi, questi li porto io, se no questi li fanno bere. A metà della notte, lo chef ha capito come lavora il mangiarte e in un momento di tranquillità si confronta con Mario e Dario. Li ho visti bene stasì. Cioè i piatti escono, il servizio è andato molto bene. Sto locale è radicato proprio per essere un locale notturno, un po' di musica, i cocktail. Giustamente lui è abituato a tipi dei locali dove alle 8 se cena, a luna se pranza. Cioè la ristorazione è un'altra cosa. Tu mi stai chiedendo un altro locale, capito che voglio dire? Cioè non lo so se vi servo, se vi posso aiutare. Secondo me se si può riportare col pranzo e la cena è meglio. Si può fare? No, si può fare, nella vita si può fare tutto. Ma dovete essere voi a volerlo fare. Volete fare questo cambio? È ovvio che mi ha fatto riflette perché mi ha detto tu vuoi essere questo o questo? Per me sì. Indubbiamente sì. La ristorazione completa è quello che comunque ho sempre voluto fare. Allora ci vediamo domani a pranzo. Vi voglio vedere all'opera con un servizio di ristorante. E non vi preoccupate per i clienti che li trovo io. Metto io la voce in giro. Ok? Grazie. Allora a domani. Ciao. Buongiorno. È ora di pranzo e i primi clienti occupano i tavoli del mangiarte. Oh, se fosse io qua dentro. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Sei in linea? Ci proviamo. Dai che ha arrivato la gente. Patrizio raccoglie le prime ordinazioni e fa le prime battute. E per secondo avevo letto salsiccia al mirto. Come ma descrivi? Ma schifo. Ma schifo. Ma però venguini che c'è il pepe. Dopo un tabba c'è però. C'è subito un problema. Ragazzi serve il pane. Se gli ha fatto a tagliare pure il pane. No, è fine del pane. Come è fine del pane? Ho detto a tuo figlio. A mio figlio gli dice che c'è il pane. A che lo devo dire? A me lo devo dire. A te lo devo dire. No, 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 no. Mi sono sbagliato. Che devo fare? E che devi fare? Impiccate. Allora ragazzi. Una linguina cacio e pepe. Una mezza manica alla carbonara. Votrateci ho grattato io il pecorino. Mi date un pezzo di pecorino che ho grattato al volo io. Che macca. La grattugia. Ma che c'è un po' qua dentro? Vai. Carbonara ragazzi. I primi piatti raggiungono la sala. Altri restano dimenticati in cucina. Che ordine è? La di Patrizio. Allora io che c'entro, scusa. E che c'entro? Sei secca. Spesso rimangono i piatti lì per troppo tempo. Questa è una bella frittata, c'è famo. Noi dovremmo ordinare. Non è venuta ragazzo? Ancora no. Vanno trascurato. Viene zemaniche alla carbonara. Mangia poco. Le comande scritte male mandano presto Massimo in confusione. E il secondo questo? Come fa a essere il secondo? È uscito già questo. Eh, esatto. Comanda uno, comanda due, poi ritornava. Comanda una, comanda due. Questa è uscita ma dobbiamo farlo per il secondo. In sala ognuno mette un numero alla propria comanda. Comanda fa al quadrato un attimo. Uno, due, tre. E poi c'è questi soldi per il secondo. L'uno l'ho già fatto. Cioè l'hai fatto o non l'hai fatto? Ho fatto un altro uno io ho fatto. Hai fatto quell'altro? Eccolo questo, basta. Io ci ho messo i numeri, lui ci ha messo proprio la quantità, tu non è uno. Mario interviene per cercare di portare un po' di ordine. Eh, vestate a piedi il caffè, la gente sta fuori se stanno cominciare a San Massimo. Sta roba da Rio, che devo fare? Ah, Dario, devi usci dalla cucina. Già se stanno a picciare il conto d'oro, esci fuori, tagli. Dario, va in cucina, crea panico. Però non è che risolve. I straccetti? I straccetti. Capito, ricorda di qualcosa. Che mi ricordo? Io sto andando in tuvido, sto andando. Ho sgaroppito il limone e... Siamo la pasta, tutto insieme. Sì, sì. Piamone in butto che mettono tutto dentro, no? Fiamo un miscelone, un pastone. Tutto a posto, regà? Io aspettiamo, però, spiegatelo. Cioè tu c'hai la sala piena. Nel cliente che aspetta e c'è sul fuoco una padella. Metti una pila a bollì, fa qualcosa. C'è un cortitore che aspettiamo. La necessità di servire i clienti che si lamentano si riflette sui piatti che Massimo fa uscire dalla cucina. Ma ci devi mettere pure un po' di questo qua solo, è guarnito poco poco. Io sono negatissimo a fare delle decorazioni. Tanto la mia è un minestrone, un pappone è diventata, una vita. Mettaci un po' di decorazione, un po' di insalatane. Non ci vuole la decorazione, ci vuole la croce. Ragazzi, salmone? Grazie. I piatti non erano fatti bene. Purtroppo al dente. Si tratta un dente, no? Eh, quasi. Ma è dura, è fredda. Ha detto magnatate questa. Guarda. Tacchete, tacchete. I piatti era meglio che rimanivano in cucina. Ma raga, c'è sta gente che aspetta e come fate pure buttare la pasta. Il piatto, quando arrivava, magari arrivava pure freddo. Scusa, è fredda però, c'è, tutto questo tempo è pure fredda. C'è poi la stufetta, la metti vicino. Licenziatelo, ma... Ancora una volta Mario deve intervenire. Non può andare a fare batture, perché quello non c'ha voglia di giocare. Vabbè, dai, va, fa una cosa, va. Alevo? No, va, 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 va. Io che penso io, vai, vai, vai. Mangiare non si mangia. Arte non le vedo. L'unica arte che vedo è la comicità. Qua dobbiamo partire dalla bici. Confusione e nervosismo aumentano con il passare dei minuti. Perfetto, ma arrivò se ci vorresti portare una bottiglia d'acqua, per favore. Vabbè, manca l'acqua e la cosa... Il tavolo non era mio comunque. Ma i tavoli sono i miei, e tu dovresti guardare i clienti. Non io cosa è il tavolo suo. Io con chi sto a parlare, scusate. Come si fa? E' stata un pazzia, oh. Oh, se si sentono gli strilli fino a fuori, oh. Almeno ha vergogna, se la conoscete, state pezzitti. Il pranzo si conclude con l'insoddisfazione dei pochi clienti, che lasciano il ristorante delusi e inappagati. Tra poco, lo staff è messo a confronto con i problemi di un vero servizio. Siete ancora sicuri che volete fare ristorazione? La campanella della scuola suona per il team del mangiarte. Per partire da zero, meglio di una scuola berghiera non c'è. Massimo e Chiara scoprono un nuovo modo di cucinare. L'occhio vuole la sua parte. Lo chef canavacciuolo è a Roma, al ristorante mangiarte. Mangiarte 24 ore, ma che è una farmacia? Ha trovato un locale dall'identità incerta e confusa. Qua cos'è il pub, diciamo? Facciamo i cotte, caffetteria. E uno staff impreparato. Fa proprio schifo. Non c'è senso di dire questo piatto. E completamente inesperto. C'è la sala piena. I clienti che aspettano e c'è sul fuoco una padella. Io penso io, vai, vai, vai. Lo staff del mangiarte si deve ora confrontare con lo chef canavacciuolo. Mario, oggi ho riletto un libro. Già sapevo la fine. Come abbiamo parlato di ristorazione? Panico. Penso dopo 20 minuti non ci abbiamo capito più niente. Allora, la prima comanda. Cioè tu sai che i piatti che stanno uscendo fanno schifo, non sono buoni, e li buttate fuori. Cioè abbiamo capito che noi fino adesso non avevamo fatto proprio niente. In sala l'avete preso come un divertimento. Battute inadeguate alla ristorazione. Certo, magari sbaglio tu. Cioè battute, ma... Allora, tu devi capire una cosa. La simpatia è un'altra cosa. Perché tu ti devi mettere sempre nei panni del cliente. Mario ci ha provato a tenere un po' la situazione. Ma dopo un po' pure Mario. Non avete capito il concetto di ristorazione qual è? No, non abbiamo proprio capito, è vero. Voi vi siete focalizzati sul serale, sulla notte. E basta. Ieri sera vi ho visti e quello è quello che dovete fare. Uno che ha bevuto già 5-6 drink, se fa le schifezze che hai fatto oggi non se ne accorge nemmeno. Può essere. È sicuro, non è può essere. No, no, è sicuro. È quello, eh. Dopo un servizio del genere, voi siete ancora sicuri che volete fare ristorazione? C'è da lavorare tantissimo. Sicurissimo. Anche perché chi non è d'accordo, la porta è quella. Ti butto io dalla porta poi, eh. No, Mario? Va bene. Perciò da questo momento fate quello che vi dico io. Sì, sì. Ok? Venite con me, dai. Incominciamo. Lo chef ha un'idea ben precisa di ciò che lo staff del mangiarte dovrà fare. Ho letto scuola alberghiera, ho detto allora questa è una cosa che riguarda tutto ciò che cucina. Per partire da zero, meglio di una scuola alberghiera non c'è. I professori vi spiegheranno le basi del nostro lavoro. Siamo a fare cose serie allora. La base. Almeno la base la dovete sapere. Andate dentro che poi vi raggiungo. Vi vengo a fare un esame dopo, capito? Sì, ma che altro. Come esame? Cioè, che stiamo a fare? Benvenuti. Io sono un'insegnante di accoglienza turistica di questa scuola. Per cui alla base della mia materia c'è il portamento e l'etica professionale. Chi di voi è in sala? Siamo io, Ugo Avvolto e Patrizio. Chi è che mi fa vedere come si muove in sale quando camminate? Qua lo sai che mi faranno? Nero. Perfetto. Mi è venuto a ridere quando ho visto Patrizio e Dario storti, camminano, non ridono, scherzano. Grazie. Diciamo piuttosto ciondolanti. La postura. Voi siete tutti un po' ingobbiti. Perché hai messo fuori la panza, vedete? Eh no, perché devi trattenerla. Ok. Caro Patrizio, si imparano tante cose nella scuola. È importante. Perché quando metti le mani in tasca... Anche così? No. È una posizione che non si assume male. Vabbè, scusa, non lo sapevo. Come sono io adesso? È quella la posizione giusta. No, ma le tappevo tutti così. È certo. Come diceva lo chef, se parte da zero, quindi stiamo ripartita alla scuola. Magari l'attesa è lunga per l'uscita del piatto, il cliente è spazientito, che fate? Lo tratteniamo. Come? Una battuta. No. Dovresti essere in grado di capire chi hai di fronte e se può apprezzare la tua battuta. Penso che abbiano capito finalmente come comportarsi e come non comportarsi. La seconda ora di lezione è dedicata alla mise en place. Quella del mangiarte è il punto di partenza per le osservazioni del nuovo insegnante. Innanzitutto possiamo sistemare meglio il tovagliolo, non arrotolare le posate, anche se può sembrare una questione igienica. Vediamo un po' di capire come si può migliorare anche con la stoffa o con altri tipi di posate. Apparchiamo due coperti. Secondo voi? Ah, il tovagliolo va in centro le posate ai lati? Bravo. Il tovagliolo va in centro perché in qualche modo sta a delimitare il coperto. In un ristorante dove si sceglie la carta, normalmente noi mettiamo due forchette, un coltello, quindi sistemiamo quello lì e poi procediamo con i bicchieri. Allora, ci sono due modi di sporre i bicchieri a tavola. Questo che avete scelto voi, partendo dalla punta del coltello più interno, si mette il bicchiere d'acqua. Quando vedi la tavola apparecchiata bene, ti è anche più voglia di mangiare. Dopo aver insegnato le basi dell'accoglienza allo staff della sala, è il momento di valutare l'esperienza di Ugo. Ugo, saresti in grado di prepararmi un cocktail Negroni? Come no? Adesso è il bicchiere. Ti faccio notare soltanto una cosa. Qui intorno il cliente ci dovrà appoggiare le labbra. Il modo più corretto di prendere un bicchiere è sempre dal fondo. Nel casino della cacciara non fa a casa come prendere il bicchiere, invece ho capito che è molto importante. Se doveste servire un moscato, in quale bicchiere lo servireste? In quella coppetta. Esatto. E se invece dobbiamo servire un rosso corposo? Mario, quello con la pancia più larga. Che vuole aggiungere? Quello con la pancia più larga. No, l'altro. Questo bicchiere. E secondo voi cosa serviamo in questo bicchiere? Qua è più un amaro. Sorbetto. Cognac. Whisky. Vino passito. Alla fine sono stati un po' responsabilizzati ed era quello che io volevo. Dopo il servizio di oggi a pranzo, che sappiamo com'è andato, no? Cosa serviva? L'ABC. Io adesso voglio fare un piccolo esame. Partiamo da questa tavola. Come apparecchiate, secondo voi? Bicchiere della professoressa. Come ho messo io? I coltelli vanno con la lama verso l'interno. Vedete che questa non è uguale a questa o no? Le forchette vanno di qua. E quelli là vanno di là. Posso farlo? Siamo riusciti un pochino tutti quanti a riconoscere le forchette, i coltelli, la posizione dei bicchieri. Poi cosa vi hanno insegnato? Portare i piatti. Eh dai, portate questi piatti. Posso aggiungere che il piatto va servito prima alla signora e poi sempre con una sola mano il piatto. Indubbiamente questo giorno di scuola è servito a qualcosa. Anzi, diciamo, è servito parecchio. Patrizio, vieni qua. Il suo piatto è freddo. Mi ha un po' provocato e io non sapevo rispondere. Ad un certo punto ho detto, no, qui devo essere perfetto. Ma io lo cambio. Lo porto indietro, scusate. Patrizio, come prima cosa si chiede scusa. Tutti possiamo sbagliare. Bravo. Certo, queste cose poi cercherò anche da farle anche a ristorante dove lavoro. Oggi siamo partiti dall'ABC. Dopo la C cosa c'è? Di come? Divise. Grazie, sono belle davvero. Non sembrano manco divise da lavoro. Adesso l'ABC ce l'abbiamo. Si deve ancora tutto l'alfabeto. Manca la parte della cucina. Massimo, tu è Chiara, venite con me. Che non è finita. Non resta che dare le basi anche a Massimo e Chiara. Vi attende il training nelle cucine della scuola. Oggi facciamo due ricette molto veloci. Una simpatica, che è il club sandwich. E poi invece facciamo di lumaconi ripieni di baccalà e patata su una crema di piselli. Ok? Vabbè. Come prima cosa facciamo cuocere la pasta. Allora, baccalà. Solo olio. Posso? Vai. Vedi che scotta, eh? Allora, per capire la temperatura. Vedere che è un canocciolo che è uno chef così importante a cucinare è stato bellissimo. Molto veloce una cottura. Qua ho già preparato la crema di piselli, scalogno, patate sottile. Per ottenere un po' di cremosità, questo punto di baccalà lo mettiamo in una ciotola. Usiamo un po' di prezzemolo, un po' di olio all'aglio e con l'aiuto di un cucchiaio, una forchetta, lo lavori. Qua abbiamo la crema, come quella di piselli, solo scalogno e patate. Le mettiamo un po' dentro al baccalà per farlo diventare cremoso. Ho capito che l'importanza di usare materie prime buone porta anche a un risultato non indifferente e anche a una grande soddisfazione. La pasta è pronta. Con la farcia di baccalà e patate facciamo il lumacone. Che spettacolo! Allora, piatto, passiamo in un foglio di carta da cucina. A questo punto mettiamo la crema di piselli nel piatto. Quando lo chef ha messo quella crema verde, c'hanno un colore fantastico. Ci ha messo quei quattro lumaconi sopra. Visti veloce, una ricetta gustosa. Sicuramente. Perché immagini il baccalà, la patata, la freschezza dei piselli. Dai, assaggiate. Essi l'importanza della presentazione. L'occhio vuole la sua parte. Senti la dolcezza dei piselli, come buono. È veramente... Sembra di due piselli che mi hai dato. È uguale. Era totalmente diverso il colore dei piselli. Era più... molto verde. Qui ci sono gli ingredienti per fare un club sandwich. Solo questa è un po' una mia linea. Perché un club sandwich è fatto da tanti strati di pane. Invece qua ne facciamo solo due di strati, ma tosti. Belli consistenti. Aspetto di pollo alla piastra, vero, chef? Piastra, sì, scottata in padella. Un po' di sale. Pepe. E un po' di maionese. Le uova a tegamino, bacon croccante e pomodoro. Ok? Ah, però se nel sandwich è facilissima, è un piatto per i ragazzi, soprattutto. Che c'è Chiara? Bellissima. Già da così. Già da così? Bello imbottitone, bello carico, bellissimo. Allora guardarlo. Senza parole, non ci abbiamo mai pensato. E noi di panini ne facciamo veramente tanti. Vi piace, eh? Così potete accontentare pure la clientela che vuole mangiare solo un panino. No, certo. Dai, assaggio, dai. Dagli un pezzettino, lo diamo a metà? No, ma io mi mozzico proprio. Ah sì? Sì. Ah, pure io. St'animale. Ora è il momento di trasformare anche il ristorante. Il team dello chef Canavacciuolo si mette al lavoro per dare identità e personalità al nuovo mangiarte. Tra poco, lo staff scopre il nuovo aspetto del mangiarte. Ti vedo preoccupato, che è? Pochi, io. Lo chef prepara il rilancio del locale. Raga, questo spirito qua lo voglio trovare nella serata. Ci dobbiamo divertire. Riuscirà lo staff del ristorante a mettere in pratica gli insegnamenti appresi in questi giorni? Se lavorate bene, questi sono i risultati. Lo chef Canavacciuolo è al ristorante Mangiarte. Mamma mia. Ha trovato una cucina modesta e senza personalità. Ha detto, mangiatevi questo. Uno staff inesperto e confusionario. Io con chi sto a parlare, scusate. Che lo chef ha dovuto riportare a scuola. Si chiede scusa. Tutti possiamo sbagliare. Per lo staff del mangiarte è il momento di scoprire qual è il nuovo aspetto del loro ristorante. Buongiorno. Buongiorno, chef. Buongiorno, chef. Sto a posto, Mario. Ti vedo preoccupato, che? Pochino. Prima cosa, una sola insegna. Il nome del ristorante, cucina con giardino. Il giardino poi capirete dopo il perché. Senza altre scritte, mille scritte che erano bruttissime. Quelle scritte, quelle informazioni che però messe tutte accozzate non servivano a nulla. Dai, venite con me, dai. Oddio, che strano. Sono entrato dentro la sala. Oddio, questo è un ristorante nostro. Io sono entrato all'altra parte. Ma siamo sicuri che è il locale nostro? No. Abbiamo mantenuto il concetto di recupero. Tavoli, le sedi recuperate da un cinema. I secchi abbiamo fatto diventare lambatari. Il locale è bellissimo. È un altro locale. Dai, venite con me. Qua abbiamo fatto la parte bar. Pure qua, vedete questi oggetti che abbiamo recuperato? Prima erano sparpagliati in giro, adesso abbiamo dato un'identità vicino a un muro da soli. Questa parete l'abbiamo lasciata libera. Chiara, colorata. No, chiara. Chiara e colorata. Abbiamo preso spunto ai due capelli per fare la parete. La parete è blu come i miei capelli. Quella mi accolpeta. Dai, venite in cucina, vi faccio vedere un'altra cosa. Per cucinare bene si vogliono gli attrezzi. Cortelli che tagliano. Le padelle sono fantastiche. Ci sono i cortelli nuovi. Possiamo provare? Come puoi provare. Ecco, viene Massimo. Chiara e Massimo sono contenti perché avranno del materiale migliore per lavorare. Cosa c'era scritto fuori? Cucina? Con giardino. Cucina con giardino. Andiamo a vedere questo giardino, dai. Un giardino vero e proprio. Dio, stupendo. Una cosa di bella l'avevamo vista. Da fuori, quando passano, ci vedono dentro. Avete visto il muro? Abbiamo utilizzato i pallet come portafiori. Ma anche le piante hanno un effetto bello, positivo, quindi è più spronata ad entrare. Alla fine a San Lorenzo ce l'abbiamo solo noi in giardino così. Adesso cosa manca? Da mangiare. Da mangiare, bravo. La cucina. Io ti ho fatto una linea da ristorante con qualche piatto da snack tipo il club sandwich, tipo lo spedino, l'hamburger. Tutto il menù va benissimo per ogni tipo di clientela. Sembrano ancora buoni, ma li possiamo assaggiare. Come no? Allora qua, gli antipasti. Una zuppa di legumi e verdure. Animelli e carciofi con una crema di carciofi più carciofi intero. Pomodoro ripieno di tonno con cipolla e una salsa di pane. Che dovrebbe essere buono. Questo lo conoscete. Passo di qua, mi siedo in giardino e mi mangio un bel club sandwich. Ai primi, ravioli, cacio e pepe. Anche dentro, cacio e pepe? Cacio e pepe all'interno. Numaconi con baccalà e piselli. Gnocchi alla matriciana. Adesso fare dei gnocchi che lo metti nell'acqua e dopo 3-4 minuti è pronto. A noi c'è reso la vita molto più semplice. Passiamo ai secondi. Pure là lo spiedino con i peperoni. Peperoni arrostiti a insalata. Hamburger con cime di rape, una scamorza scottata alla griglia. Stingo di maiale brasata alla birra scura con una schiacciata di patate. Questo lo vedo proprio buono. Passiamo al dolce. Abbiamo una zuppetta di arance sia crude che cotte con del cioccolato amaro. Una crostatina di miele e frutti di bosco e fiori. Una mousse a caffè insieme a una mousse di limone, meringhe e limone candido. Si immagina la golosità, la croccantezza della meringa. Nel bicchiere abbiamo una mousse di yogurt, amarena e cioccolato. Questo volete essere veramente buono? Quello è per te Mario. Mario, tu tutti i piatti, questo è veramente buono. Tu veramente buono. Allora, mentre loro assate, volete assaggiare? Sì. Dai tu vieni con me che se. Non puoi assaggiare. Dai, dai, assaggiate, assaggiate. Ne so, proprio io. Che bravo, tipo morti di fame. Assaggiamo qua, assaggiamo qua. Basta! Ma che fai? È solo quello? Il menù di lo chef è inutile commentarli parlando da soli. È l'ora della riapertura e lo chef dà gli ultimi consigli ai ragazzi del mangiarte. Ragazzi, stasera vi voglio carichi. Mario, cosa mi avevi chiesto quando sono andato qui dentro? Un ristorante mi avevi chiesto. Guardatelo. Bellissimo. E guarda che camerieri. Guarda che posizione. Ti ricordi quando sono arrivato qui dentro? Caga, un po' da masticare. Guardateli in bocca. Brava. Putta a sacrum. Ragazzi, questo spirito qua lo voglio trovare nella serata. Ci dobbiamo divertire. Perché se noi quando lavoriamo ci divertiamo, la fatica non arriva. Tagliate, grinta. Bravo. Cosa gli ha detto? Cosa vuoi? Grinta, cazzo. Dai, 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 dai. Buonasera. I primi clienti arrivano. E il nuovo aspetto del ristorante raccoglie subito consensi. Molto elegante, devo dire. Ho visto già subito nei loro occhi un senso di sorpresa. Vorrei assaggiare questi ravioli cacio e pepe. Buonissimi ravioli. I miocchetti. Miocchetti. È tutto vado bene perché mi ha visto tutto il pesisino, tutto coordinato, composto. Mi è piaciuto. Tre ravioli cacio e pepe e dopo tre cinque maiale al birra. Quattro. Non puoi di mangiare l'olio? Dai, 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 dai. Dai, brava, brava. Due zuppe, ti ricordi il tavolo? Dario e Patrizio mettono in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola. Ecco a voi ragazzi. Buon appetito. Con i primi piatti arrivano anche i complimenti per Massimo e Chiara. Ragazzi, dalla sala fanno i complimenti. Ragazzi, ringrazio a tutti. I piatti quasi come se li avessero puliti proprio con il sapone. Ragazzi, se lavorate bene, questi sono i risultati. Viatti puliti. Pavoloso. Perché la gente ha gradito. La serata procede bene, ma basta un niente per far calare attenzione e impegno in sala. Dicci qualcosa. Cioè, allora non avete capito niente voi? Non avete proprio capito niente? Ragli un po'. Morite, va. Certo, oggi poi cercheremo di essere un po' più precisi. Io ce la metterò tutta. L'intervento di Mario e dello chef fa sì che lo staff ritorni a occuparsi dei clienti del ristorante. Sta a posto allora? Sta bene? Mi piace il locale tuo? Eccoli. Grazie. Alla posta. E a mangiare. Adesso dobbiamo noi andare avanti nel modo migliore. Arrivederci. Ciao. Buona serata. Gli ultimi clienti escono soddisfatti dopo una serata in cui tutto ha davvero funzionato perfettamente. Raga, la serata è finita. C'è poco da dire. I piatti parlavano da solo. Piatti vuoti è un messaggio positivo. Significa che i clienti... Erano contenti. Erano contenti. E soddisfatti. Questo è il nostro lavoro. Fare felici i clienti. Voi mi avete chiesto un ristorante. Il ristorante ora ce l'avete. Grazie, chef. Grazie, grazie. Abbiamo parlato in là, a Bici. Perciò la strada è lunga ancora. E ricordate che questa strada è a senso unico. Perciò dovete andare a diritti così. Ok? Grazie, chef. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Dai. Ciao. Grazie. Abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Mi raccomando, eh. Che tu qui tenesi il futuro. Ciao, raga. Grazie, chef. Scusi, è questo il posto aperto tutta la notte? Addios. Ciao, emozPLOS. Perciò la notte? Bis 500 quindi. Buon anno. Buon anno. Armin. Va.